Buon pomeriggio e benvenuti a Vietato Tacere. Si apre una settimana particolare per la nostra trasmissione, una settimana che è per tutti particolare, questa nel bel mezzo delle festività. Per qualche giorno non avremo i nostri consueti politici a discutere di tutte le ultime novità, non avremo le telefonate vostre, di voi pubblico a casa, ma faremo degli incontri in cui andremo a toccare alcuni degli argomenti che comunque animano la nostra discussione. Vietato Tacere con la sua formula tradizionale tornerà poi dal 7 gennaio, una volta passate le feste, ma intanto oggi ci concentriamo su quelle che ci piace chiamare storie. E uno degli ospiti che abbiamo voluto invitare è il sindaco di Asolo, Mauro Migliorina, a cui do il benvenuto, anzi il bentornato perché era già venuto a trovarci qualche mese fa, che oltre a essere il sindaco di una delle località più belle del Veneto, io lo dico sempre, Asolo è davvero una perla, in mezzo a tante perle che ha la nostra regione, è davvero una delle località più affascinanti che abbiamo, ma che è anche protagonista di una storia molto particolare perché nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus, già all'inizio di quella che era chiamata, si è chiamata la prima ondata dei mesi difficili di marzo e aprile, forse meno difficili di quelli che stiamo vivendo, era tornato in corsia perché di professione non fa il sindaco, ma fa l'infermiere. È corretto sindaco, è andata proprio così? Assolutamente sì. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie di questo nuovo invito. È andata esattamente così e da fine di febbraio non ho più mollato la mia professione di infermiere, abbiamo un po' ridotto, calibrato gli orari, ma continuo a operare come infermiere, non più nella rianimazione Covid come in quei mesi di marzo, aprile e parte di maggio, ma in parte dell'orario del mio servizio in un pronto soccorso e l'altro nella sua M118. In tutto quanto questo, il ruolo di sindaco come riesce a farlo? Riesco a farlo grazie alla collaborazione del mio vice sindaco, in primis Franco Dallarosa, e di tutti i miei assessori che compensano la parte di orario che non dedico all'amministrazione comunale. Da una parte loro, dall'altra grazie a tutti i dipendenti del comune di Asolo, dai vari responsabili dei diversi settori fino a tutti i dipendenti nei diversi uffici, ai lavori pubblici, agli operai, se non ci fosse una macchina ben oleata, se non ci fosse questa anche sintonia tra i dipendenti, tra i dipendenti dell'amministrazione, probabilmente non riuscirei a fare questo. Quindi il mio grazie va in primis a loro, ai dipendenti comunali. C'è stata qualche critica quando lei ha annunciato questa scelta? Intendo dire che gli elettori l'hanno eletta perché lei faccia il sindaco e quindi magari, immagino, si aspettano un sindaco sempre presente, sempre pronto a rispondere. Quello è il ruolo del sindaco, che peraltro abbiamo sempre detto è al tempo stesso il lavoro più bello, ma anche più complicato di quelli che hanno a che fare con la politica. Qualcuno si è lamentato del fatto che abbia scelto di tornare a fare l'infermiere abbandonando il timone della sua asola oppure i cittadini hanno capito il perché lei ha deciso di fare questa scelta? Esattamente l'opposto. I cittadini hanno capito e mi hanno sostenuto. Cioè io critiche non le ho mai ricevute per la scelta. Critiche per le scelte dell'amministrazione, sì, ci stanno, è guai se non ci fossero. Ma per la scelta di ritornare in prima linea, in ospedale, assolutamente nessuna. Anzi, ho ricevuto tutta una serie di messaggi, di telefonate, di mail, di sostegno, di pacche, anche semplici pacche sulla spalla lungo le strade o le piazze, che sono l'energia che mi hanno permesso, che mi permettono tuttora continuare queste due bellissime esperienze, sia in ambito sanitario, sia in ambito sindacale, come sindaco delle comuni di Asolo. Senta, quando ha deciso di tornare in corsia, di rimettersi il camice, di tornare a fare l'infermiere, lo dicevamo prima, erano i mesi difficili della prima ondata, quelli di marzo, di aprile, quando questo enorme problema ci è capitato addosso, nessuno di noi lo conosceva, nessuno immaginava che ci avrebbe complicato e che ancora ci sta complicando così tanto la vita. È stata una scelta d'impulso, una scelta meditata? Come è arrivato a dire, ok, devo tornare a fare l'infermiere? Una scelta meditata, una scelta che è partita da una richiesta da parte della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria, che necessitava, come tutte le aziende sanitarie in ambito nazionale, di far ritornare quanto più personale possibile, medico, infermieristico, tecnico, operatori sociosanitari, all'interno degli ospedali per rispondere alla prima ondata, come correttamente hai detto. Una scelta meditata che ho ponderato al primis all'interno della mia famiglia, quindi con mia moglie, con i miei figli, ma poi anche con la mia giunta, il mio gruppo consigliare e con i capi servizio del Comune. Una volta che ho capito e ho percepito non solo di avere l'appoggio, ma di avere la sicurezza che l'attività amministrativa avrebbe comunque continuato a progredire, a lavorare, ho detto di sì. Nello stesso tempo la tecnologia ci dà una mano perché al termine del servizio prendersi un'ora di tempo per guardare le mail, rispondere ai messaggi, rispondere a WhatsApp, anziché altri canali social, l'ho sempre trovato, continuo a trovarlo. In questo senso ringraziamo anche il Covid perché ci ha permesso di utilizzare e di implementare anche questa tipologia di nuove piazze virtuali e quindi a me ha permesso di mantenere il contatto con i cittadini. In questi mesi, ma presumo anche tutti gli altri sindaci, ci sono più i cittadini che contatto, tra virgolette, con cui mantengo la relazione virtuale. Torno a ripetere che sia la social di turno, la WhatsApp di turno, le mail di turno, rispetto a quelli che vedo. E questo è anche un bene perché meno cittadini girano all'interno degli uffici pubblici, più si tutela la salute anche del dipendente pubblico. Perché io non posso dimenticare che sono anche dattore di lavoro di quasi 50 dipendenti all'interno del comune di Asolo e devo tutelare la loro salute. Anche cercando di rallentare, non dico di impedire, ma di razionalizzare l'utilizzo degli uffici pubblici in prima persona da parte dei cittadini. Beh, effettivamente, lei citava questi mezzi di comunicazione che ci hanno cambiato la vita, ce l'hanno in parte risolta, penso alla didattica a distanza, tanto criticata dai ragazzi che giustamente vogliono tornare a fare lezioni in classe, ma è altrettanto vero che ci ha risolto effettivamente dei problemi enormi che altrimenti avrebbero impedito di andare avanti con i programmi scolastici, ma hai tantissimi che lavorano in smart working, come giustamente citava lei, le pubbliche amministrazioni sono state in prima linea proprio su questo. Pensa che torneremo al vecchio modello o che questa rivoluzione che ci ha cambiato questa vita in questo momento per l'emergenza poi rimarrà anche un modus operandi che terremo ancora a lungo? Secondo me il vecchio modello ce lo dobbiamo scordare, cioè un altro insegnamento che dobbiamo tenere presente da questa emergenza sanitaria, questa pandemia, è quello di cercare di razionalizzare e di prestare attenzione anche ai vari affollamenti, alle varie possibilità di contaminazione, passate in questo termine tecnico, perché un dato di fatto in questo momento anche noi due stiamo utilizzando un distanziamento fisico, ci siamo incrociati con la mascherina, abbiamo tolto la mascherina nel momento in cui abbiamo mantenuto questo distanziamento di due metri. Guarda caso, in questo periodo che di solito è un periodo di diffusione di altre tipologie di coronavirus, quelli che danno i raffreddori anziché l'influenza, questi stanno piano piano scomparendo. Ma perché? Non scomparendo, ma stanno diminuendo. Perché? Grazie all'utilizzo della mascherina e grazie al fatto di mantenere un po' di distanziamento. Quindi in ambito sia sociale, civile, lavorativo, secondo me stiamo vivendo una rivoluzione che ci porteremo avanti nei prossimi anni. Cioè certe tipologie di maxi incontri che amiamo di così secondo me saranno improbabili, almeno per alcuni anni saranno assolutamente improponibili. Altro dato positivo, bisogna sempre guardare anche un po' i lati positivi all'interno del dato negativo di questa emergenza sanitaria l'implementazione della digitalizzazione. Quindi non solo tutto lo smart working, ma anche pensiamo a tutte le varie riunioni che vengono fatte non solo da Repubblica e Amministrazione, ma anche di lavoro. Se per fare incontri e assemblee ci dovevamo muovere per andare a Vicenza, anziché Padova, Venezia, Roma, adesso si fa tutto in videoconferenza. Questo per me è un bene, perché diminuiamo anche l'infinimento ambientale e dall'altro troveremo altri motivi o altri luoghi per relazionarci senza incorrere in rischi sanitari. Dobbiamo prestare la massima attenzione per lungo tempo. Faccio fatica a dire che il Covid ha portato qualcosa di buono, perché faccio proprio fatica a pensarlo, però effettivamente ci sono degli aspetti che cambiandoci la vita ce l'hanno da un certo punto di vista anche un po' migliorata. Insomma, come diceva lei, la riduzione dell'inquinamento piuttosto che gli spostamenti, questo sicuramente è un lato vantaggioso. Prima lei ha citato e non mi è sfuggito il fatto che prima di decidere di tornare in ospedale ha parlato con la sua famiglia. Immagino che in famiglia siano abituati ad avere a che fare con una persona così piena di iniziative, ha deciso di fare il sindaco e quindi non so quanto si siano stupiti quando lei ha detto ok, ho deciso di tornare in corsia però volevo capire che tipo di reazione c'è stata da parte di sua moglie e da parte dei suoi figli. L'hanno appoggiata o hanno provato ad ostacolarla perché erano perfettamente consapevoli e lo sentiamo dire tutti i giorni che se c'è un luogo dove il virus corre beh, quello è proprio l'ospedale. Esatto, l'ospedale e le strutture sanitarie territoriali. La mia famiglia è abituata ad avere un marito o un papà che non è tranquillo diciamo perché vedi nel corso della mia vita ho partecipato a diverse anche missioni umanitari con NGO con organizzazioni non governative in giro per il mondo sempre per emergenze sanitarie dal sud Sudan all'Angola all'Etiopia all'India e via dicendo o anche ad interventi sanitari con la protezione civile nazionale in primis in giorni immediatamente successivi al terremoto dell'Aquila. Quindi loro sono abituati ad avere il marito e il papà che ogni tanto scappa o prende non prende delle decisioni ma condivide delle decisioni con loro perché non ho mai deciso da solo ho sempre voluto condividere prima con mia moglie e poi adesso che i miei figli sono grandi non dico adulti ma sono grandi maggiorenni con loro la condivisione ci vuole sempre. Quanto è importante sapere di avere la famiglia dalla tua parte? Dato 100 direi 100 assolutamente sì è assolutamente un fattore motivante anche perché sai che se ti capita un turno difficile o mi capitava una missione difficile un punto di appoggio un punto di confronto un punto di sostegno ce l'avevo e ce l'ho certo. Provo a chiederle una cosa se uno dei suoi figli gli avesse detto no papà non è il momento evita visto che poi fai a meno avrebbe tentennato o avrebbe comunque prebalso il senso di responsabilità? Avrei tentennato avrei tentennato se non avesse avuto l'unanimità che mi ha che mi ha che mi ha appoggiato probabilmente non avrei fatto questa scelta. E quando torna a casa la sera i suoi figli sua moglie le chiedono qualcosa oppure è un argomento che è meglio non toccare il lavoro rimane fuori dalla porta? Allora adesso ne parlo però non nascondo che ho iniziato a parlare della mia esperienza nella rianimazione covid un mese fa quando mia figlia minore ha visto prima del lockdown scolastico un film durante un'ora scolastico un film dedicato alle rianimazioni alle terapie intensive al dramma del covid non solo del paziente ma dei familiari e mi ha raccontato questa cosa e guardando mi ha detto ma tu hai vissuto queste cose allora ne ho parlato se no ho preferito non parlarne perché mi faceva e mi fa tuttora stare un po' male mi sento un po' a disagio torno a ripetere non tanto per la tipologia di lavoro ma per ciò che hanno rappresentato che rappresentano i pazienti e i familiari io ho detto alla mia famiglia un mese fa adesso lo ripeto chi mi chiede voi pensate a queste persone che vengono colpite da questa malattia devastante che oggi mi vedete seduti con voi nella tavola a parlare domani iniziano a star male ad avere un po' di febbre dopo domani iniziano a respirare ancora peggio il giorno successivo dopo tre giorni li accompagnano in pronto soccorso nel momento in cui entra in pronto soccorso voi non lo vedete più non avete più la possibilità di vederlo di stringerlo la mano di accarezzarlo di abbracciarlo se tutto va bene se è uno tecnologico se non è un nostro nonno di ultra 80 anni ha un cellulare e riesce a utilizzare un cellulare fare una videochiamata e riuscite a a vederlo a parlarci assieme ma si inizia ad entrare a peggiorare ulteriormente non avrà più la possibilità né di utilizzare questo cellulare né di farsi portare un telefono dagli infermieri del reparto per una videochiamata entra in rianimazione la maggior parte di chi entra in rianimazione non tutti ma chi entra in rianimazione nel giro di poco tempo la difficoltà respiratoria sono così importanti che non riha più la possibilità nemmeno non ha più il fiato di parlare a me è capitato più di qualche di qualche occasione di persone che sono entrate in rianimazione che con difficoltà riuscivano a parlare e che nel momento in cui gli è stato detto guarda guardi che la sua la sua patologia sta progredendo in modo così terribile perché si rendono conto non sono incoscienti abbiamo la necessità di essere intubato collegato un ventilatore sottoposto a questa tipologia di terapie ha questa possibilità che può dare una possibilità di sopravvivenza oppure va incontro a una sofferenza ben maggiore a un esito sicuramente differente la maggior parte di questi pazienti se aveva il cellulare ci chiedeva di dargli il cellulare oppure di dare il nostro tablet di reparto chiamava la propria famiglia la propria moglie i propri figli il proprio papà il proprio fidanzato con quel fiato che gli rimaneva sono in questa situazione voi sapete che adesso mi faranno dormire mi intuberanno e non so se ci rivedremo ecco di fronte a questo io penso che sia devastante per qualsiasi essere umano partecipare a questa tipologia di colloqui tra chi sa che nel momento che dopo pochi minuti viene sedato viene curarizzato quindi viene rilassato intubato collegato a un respiratore perché non sa si rivedrà la propria famiglia ci sono sicuramente anche e ho vissuto anche esattamente episodi differenti nel quale con le cure con la tecnologia recuperano alla grande e poi riprendono e riescono a riparlare con i propri familiari con i propri figli con i propri amici e questo ancora adesso mi fa star male perché vedere non tanto i negazionisti che la terra sia piatta o Cuba gli cambia assolutamente poco ma vedere l'incoscienza la sottovalutazione chiamiamola come vogliamo da parte di molte persone che non si rendono conto di ciò che rappresenta questa tipologia di malattia per le persone per le famiglie per le nostre comunità che sofferenze che sta portando quanti persone stanno morendo con per il Covid stiamo lì anche a distinguere se è morto con il Covid o per il Covid è comunque una persona che faceva parte di una famiglia che faceva parte di un contesto sociale che è morta magari sarebbe vissuta 5 anni 10 anni 20 anni in più un anno in più non lo sappiamo e non aspetta a noi sicuramente dire quanto sarebbe vissuta in più aspetta a noi attuare tutte quelle misure semplicissime che ci vengono continuamente ribadite del mantenere l'istanziamento usare la mascherina igienizzare le nostre mani ed evitare gli assembramenti poi vedere gli assembramenti così torniamo al discorso prima mi fa assolutamente star male anzi mi fa vomito scusate il termine è proprio così sindaco ci fermiamo per un po' di pubblicità ci vediamo tra poco e eccoci alla seconda parte di Vietato Tacero in queste nostre storie che stiamo raccontando in questi giorni di festa con il sindaco di Asolo Mauro Migliorini che raccontavamo poco fa ha fatto la scelta ancora nei mesi difficili di marzo di tornare a fare il suo lavoro che è quello dell'infermiere sindaco accennavamo ai negazionisti inutile fare finta che non ci siano c'è una parte di persone che continua a dire che questo virus non esiste che ce lo siamo inventati che c'è un complotto insomma ci sono delle persone che sono un po' restie ad ammettere una realtà che invece con i numeri è lì e ci fa paura e ci preoccupa sempre di più lei ha raccontato un po' delle storie in prima persona che ha vissuto e che vive tutti i giorni nel suo lavoro di infermiere pensa che come dice qualcuno un giretto in qualche reparto di terapia intensiva a chi fa finta di non vedere o vede ma vuole negare che esista farebbe bene assolutamente sì l'ho già detto l'ho già proposto lo ripropongo se qualcuno ha qualche dubbio sulla sull'esistenza di questa malattia o sull'organizzazione sanitaria o su come vengono gestiti i pazienti trattati i pazienti familiari possono farsi tranquillamente un giro in una terapia intensiva covid oppure fare qualche turno in pronto soccorso nei pronto soccorso degli ospedali covid e magari se hanno così tanto tempo da dedicare anche a darci una mano visto che siamo in difficoltà perché molti dei miei colleghi si sono infettati durante il servizio sia in pronto soccorso che in rianimazione che nei vari reparti ospedalieri possono venire a darci una mano di volontariato di mani che lavorano ne abbiamo assolutamente necessità e visto che poi però negano l'esistenza di questa patologia indubbiamente i dp ci rilasciano a noi non serve che utilizzino i dp lo fanno così tranquillamente un paio di guanti sì perché l'igiene va sempre bene ma per quanto riguarda tutte i camici visiere copricape copriscape possono stare assolutamente tranquilli non c'è problema c'è però stato un cambiamento nella gente rispetto a marzo aprile tante volte il presidente della regione Zai ha detto nella prima fase c'era la paura di morire nella seconda fase più di qualcuno si è convinto che tanto non toccherà mai a me perché sono giovane perché non è un mio problema perché comunque mi metto la mascherina e mi salvo la mascherina si serve ma attenzione che non è che quella ci protegge da qualsiasi rischio ci sono comunque dei rischi evidenti anche continuando a indossare la mascherina si è si è ha capito lei perché la gente che tanta paura aveva a marzo aprile maggio si sente un po' più spavalda adesso no non so però ha avuto anche lei questa sensazione o no? sì sì assolutamente sì io non so dare una risposta la sensazione è chiara e si vede tutti i giorni si vede tutti i weekend non so se sia in parte dovuto anche a una serie di messaggi probabilmente errati che sono che sono arrivati perché è inutile nascondercelo magari durante il periodo estivo qualche qualche direttore di dipartimenti sanitari di fama nazionale e internazionale il virus è clinicamente morto il virus è sparito con l'estate sparirà e probabilmente questo ha generato generato una sensazione strana nelle persone che come dicevi correttamente tanto a me non tocca se sei fortunato non tocca ma tocca magari un tuo familiare oppure tu tranquillamente puoi essere un portatore sano asintomatico benissimo che ti va bene ma magari vicino a te hai un tuo figlio o un tuo familiare o un tuo amico oncologico che ha altre tipologie di patologie che quel virus può essere mortale non solo devastante ma mortale anche se ben sappiamo che il virus non guarda in faccia a nessuno per motivi che probabilmente scopriremo tra qualche anno a me non fa niente ma la persona che ho a fianco che ha il mio stesso stile di vita il mio stesso benessere di salute può causare delle polmoniti devastanti questo lo scopriremo tra qualche anno questa patologia nonostante i negazionisti è arrivata a febbraio nel nostro territorio in Europa nel nostro territorio nazionale quindi non è nemmeno un anno che ci stiamo confrontando con questo con questo virus la soluzione sarà il vaccino ci siamo dovrebbero mai essere vicini a questo benedetto vaccino quello ci salverà mi auguro proprio di sì non abbiamo non abbiamo alternative dal mio punto di vista in questo momento non ci sono alternative ma anche qui bisogna stare attenti perché il virus ci salverà ma non è che dal 29 di dicembre che inizia la vaccinazione o il 15 di gennaio quello che sarà in cui inizia la vaccinazione in ambito nazionale sia un libro a tutti stiamo attenti anche su questo il vaccino sì sappiamo che ci saranno delle categorie che hanno delle priorità giustamente visto che sono a contatto giornalmente con questa con questa malattia ma nel frattempo dovremo comunque mantenere un atteggiamento prudente e mantenere quelle quattro continuiamo sempre a dire distanziamento mascherina igienizzazione evitare i sembramenti quelle quattro cose che si stanno che dovrebbero almeno diminuire la possibilità della percentuale di infezione io ho incontrato molte volte dei suoi colleghi sia sindaci sia infermieri però adesso voglio parlare dei colleghi infermieri e mi hanno sempre raccontato della difficoltà di essere come diceva giustamente lei prima in prima linea perché effettivamente siete lì in una situazione davvero molto molto difficile eppure è ancora difficile far capire che il vostro è un lavoro che richiede un enorme sacrificio e che a volte non viene capito perché secondo lei non riusciamo a capire che quello dell'infermiere è uno dei lavori più difficili che ci sono in Italia e che forse non viene riconosciuto come dovrebbe perché anche dal punto di vista sindacale più di qualche volta avete alzato la voce lamentando turni difficili orari impossibili e anche degli stipendi che non sono sicuramente probabilmente degni del tipo di sacrificio che siete chiamati a fare non lo so perché probabilmente è un rettaggio storico ma che non colpisce solo gli infermieri perché è vero noi siamo in questo momento in prima linea noi siamo da mesi sulle prime pagine su telegiornali incontri eccetera eccetera però non dimentichiamoci che anche altri dipendenti pubblici sono mal pagati mal compensati come come gli infermieri o come chi lavora nel comparto della sanità penso carbinieri penso la polizia i vigili del fuoco che i nostri stipendi di dipendenti pubblici parametrati a quelli di altri comuni scusate di paesi europei fa piangere ma fa veramente piangere non so perché ci sia questa differenza probabilmente è un retaggio storico probabilmente anche in questo caso si tratta di scelte politiche ben chiare se un ragazzo giovane le dicesse che vuole fare il suo lavoro l'infermiere lei lo consiglierebbe o in qualche modo anzi azzardo di più se suo figlio le dicesse che vuole fare il suo lavoro spingerebbe perché seguisse le sue orme o lo indirizzerebbe altrove ti rispondo in dialetto ti sei matto però questo lo dicono quasi tutti i genitori ai figli vero assolutamente qualsiasi lavoro sarebbe la partita ti sei matto assolutamente no due miei figli hanno scelto strade diverse la terza presumo che prenda un'altra strada diversa probabilmente sempre in ambito sanitario ma non come infermiere però chi mi chiede com'è la la nostra attività io dico guardate una professione una professione che non è semplicemente tecnica ma è una professione dove il 70% è umanità perché semplici gesti cioè anche penso in questi giorni anche semplicemente se siamo bardati però con gli occhi tu riesci a comunicare con la persona che hai di fronte e noi in questo momento siamo tra l'altro anche gli unici che possono avvicinarsi fisicamente quindi dare una mano stringere una mano sono piccoli gesti ma da un altissimo valore umano ed è quello che dico a chi mi chiede informazioni su fare se è bello fare la professione dell'infermiere assolutamente sì assolutamente sì perché al di là della tecnica torno a ripetere da un punto di vista di valore umano ed etico è una una banca incredibile meravigliosa è più una missione che un lavoro probabilmente ma tutti anche fare il sindaco è una missione non è che sia stato imposto dal medico quindi è una scelta e tutte le professioni secondo me anche la professione del giornalista è comunque una missione perché se la fai con con testa contatto con umanità sicuramente riesci a farla bene e non ti è di peso quel pizzico di passione insomma che ci salva e ci fa capire che insomma abbiamo fatto la scelta giusta sindaco gli ultimi 5 minuti spendiamoli per parlare un po' di Asolo perché ho detto in apertura che è una delle località più belle del Veneto non nego che qualche volta quando ci si muoveva un po' più spesso adesso faccio un po' più fatica ma insomma anch'io mi sono speso più di qualche domenica a passeggiare lungo lungo quei bellissimi colli quelle bellissime salite che portano nel cuore di Asolo che vive di turismo vive di artigianato immagino che abbiate anche voi pagato un prezzo molto alto con questa situazione certo certo che sì probabilmente meno durante il periodo estivo meno rispetto ai grandi centri centri storici a giugno quando hanno iniziato un po' a mollare le maglie dei vari nei vari dpcm nei vari decreti abbiamo iniziato tutta un'attività di promozione e di anche di marketing di Asolo ma non solo di Asolo anche del territorio dell'Asolano e della Pedamontana in particolare su Asolo con l'ufficio turistico l'ufficio cultura abbiamo fatto una scelta e cioè di organizzare le visite guidate del nostro centro storico dei luoghi più belli di Asolo della Rocca del museo del parco di Villa Freia della Torre Civica organizzati guidati a piccoli gruppi in orari diversi quindi dal mattino al tramonto alla sera in modo tale da far assaporare i cento orizzonti di Asolo a piccoli gruppi 20 persone al massimo 22 ok con una guida e sono state ed è stata per noi l'arma vincente cioè noi non abbiamo avuto mai tanti turisti come la scorsa estate su Asolo veramente siamo stati non siamo stati invasi perché sono stati guidati ma siamo stati ricercati non solo da parte di turisti provenienti da altre regioni qualche straniero perché in particolare dall'Austria anziché dalla Francia dalla Spagna e dalla Germania questo è stato il budget del turismo estero su Asolo quest'anno ma un turismo in prossimità cioè era bello vedere i primi cittadini di Asolo venire alla scoperta di Asolo o i cittadini di Maser o di Pieve del Grappa venire a conoscere le bellezze che tutto il giorno abbiamo sotto gli occhi perché probabilmente avendole tutti i giorni sotto gli occhi non ci rendiamo conto dell'immenso patrimonio che abbiamo la cosa che è mancata è stata la presenza di turisti anglosassoni quindi Inghilterra ed americani completamente spariti dal territorio il turismo è stato il settore che ha pagato il prezzo più alto probabilmente di questa grande emergenza sanitaria perché ci ha bloccato gli spostamenti ci ha impedito di vivere la nostra vita tranquillamente può essere secondo lei il turismo la chiave di ripartenza quando speriamo presto torneremo a vivere non dico come prima ma almeno un po' meglio di adesso certo secondo me sì non la tipologia di turismo di grandi numeri di grandi flussi però il modello asolo potrebbe essere il modello asolo sì un turismo che adesso viene definito esperienziale dove i piccoli numeri piccoli numeri possono visitare il borgo possono camminare lungo i sentieri ma nello stesso tempo possono entrare in una cantina in un artigianato nel rispetto dei distanziamenti possono assaggiare i prodotti e non gastronomici o fare l'acquisto mirato all'interno di qualche piccola bottega quindi questo secondo me è uno dei motori che possono fare ripartire il turismo e anche l'economia del nostro territorio io ringrazio il sindaco di asolo maolo migliorini siamo arrivati alla fine di questo pezzo di vietato tacere ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi parleremo un po' di come ci ha cambiato il virus nei nostri rapporti sociali sentimentali d'amicizia famigliare insomma è una gran bella partita ne parliamo con Maria Cristina Strochi che è proprio un'esperta di questo ci vediamo tra poco grazie grazie eccoci alla seconda parte di vietato tacere continua la nostra puntata speciale le nostre puntate speciali di questa settimana come vi spiegavo in apertura adesso come vi dicevo prima di andare in pubblicità parliamo con Maria Cristina Strochi benvenuta grazie anzi ben tornata psicologa psicoterapeuta che il pubblico di vietato tacere conosce molto bene perché come accennavo Maria Cristina prima della pubblicità sono un po' curioso di capire come stiamo cambiando perché dicevamo anche prima con il sindaco di Asolo siamo stati travolti dalla covid che ci ha rivoluzionato la vita nei nostri comportamenti di tutti i giorni non facciamo più niente di quello che facevamo prima del coronavirus e come hanno già detto autorevoli esperti sicuramente la nostra vita è divisa in prima del coronavirus durante il coronavirus e speriamo molto presto dopo il coronavirus e che i nostri comportamenti sociali siano cambiati insomma questo è un dato di fatto non possiamo più vedere nessuno abbracciare nessuno toccare nessuno baciare nessuno resistiamo? diciamo che è un po' difficile perché le persone sono abituate ad avere un contatto umano sono abituate soprattutto i ragazzi soffrono tantissimo diciamo i ragazzi delle superiori io ho parecchi ragazzi che sono veramente in crisi perché non riescono più ad andare a scuola a socializzare sono sempre chiusi in casa ma comunque soffrono un po' tutti infatti noi psicoterapeuti stiamo lavorando tanto per il disagio che questa situazione sta procurando anche se devo dire che qualcuno mi ha detto oh che bello grazie al DCPM di Conte non vedrò i miei parenti c'è anche chi è riuscito a trovare un lato positivo chi è riuscito a trovare un lato positivo i parenti si poteva fare a meno di vederli anche in un'altra maniera e volendo però insomma però ci si sente in colpa e quindi questa possibilità è stata accolta da alcuni con molto e a questo proposito volevo dire anche una cosa per avvicinarsi delle festività adesso delle festività di quelle del 31 di dicembre che saranno anche come quelle del Natale appena passato rovinate se vogliamo dire così dal coronavirus appunto però io quello che voglio dire ad amici parenti fratelli che non bisogna sentirsi in colpa se non c'è una compatibilità perché a Natale a Capodanno bisogna essere felici stare insieme ma se non c'è compatibilità è come una presa a due buchi e una spina a tre punte come si fa? non entra non entra e non è colpa di nessuno e quindi si vive meglio e anche se a Capodanno comunque con poche persone si potrà festeggiare se anche non c'è compatibilità pazienza l'importante è non sentirsi in colpa quello è fondamentale senti citavi i ragazzi di adolescenti anche un po' più grandi insomma i ragazzi che frequentano le scuole superiori sono quelle quella la categoria più colpita da tutto questo questa gran confusione che è il coronavirus? Diciamo anche gli universitari perché comunque giovani giovani perché bene o male insomma se uno può andare al lavoro comunque si distrae quelli che stanno peggio sono coloro che lavorano sempre da casa e non hanno la turnazione e i ragazzi delle scuole superiori e universitari che hanno bisogno loro vivono per il confronto con gli altri e trovarsi chiusi in casa certe volte devo dire vanno in depressione questa prigionia forzata leggevo da qualche parte che si dice una volta che sarà terminata questa situazione così difficile avranno molto lavoro psicologi psicoterapeuti perché ci saranno dei danni piuttosto pesanti da dover riparare ci sono già questi danni perché la persona fa fatica a relazionarsi arriveremo a un punto in cui quando spero che non duri così tanto ma se dovesse perdurare questa situazione è come ingessarsi un braccio bisognerà fare rieducazione dici che faremo fatica a riallacciare i rapporti con la stessa semplicità di prima sì perché si rischierà di essere o distaccati perché si è creata una paura oppure eccessivamente dipendenti e attaccati per la carenza di rapporti che ci sono stati capite quindi c'è un po' il distacco perché tu hai imparato in questi mesi a essere distaccato cioè a non abbracciare a stare lontano e quindi ci saranno delle persone che faranno fatica a ritornare come prima però ce ne saranno altre che si attaccheranno in maniera patologica poi abbiamo visto anche quest'estate quando c'è stata un po' di libertà libertà che si è tornati come prima fammi capire una cosa c'è un altro aspetto che mi incuriosisce molto dicevo prima nel come stiamo cambiando nei nostri rapporti ed è quello delle convivenze forzate perché se è vero che non possiamo più relazionarci con il mondo esterno con gli amici perdonami la battuta ma neanche tanto con l'amante insomma con quelle che non sono le relazioni ufficiali è altrettanto vero che siamo costretti a vivere a convivere sempre comunque con le stesse persone quindi marito e moglie che non hanno un'alternativa che magari in qualche caso poteva salvare qualche relazione il rapporto forzato magari anche con i figli perché non è poi detto che sia sempre così semplice un rapporto forzatamente così frequente se non c'è l'accordo della famosa spina e della famosa presa si spacca tutto e infatti dopo la prima ondata ci sono state molte separazioni cosa fanno adesso quelli che non hanno proprio un rapporto meraviglioso vanno fuori quando noi vediamo gli assembramenti in montagna nei centri storici perché questi a rimanere sotto lo stesso tetto fanno fatica hanno bisogno di distrarsi e sono quelli che spesso escono sono quelli che se rimangono proprio sempre a casa iniziano ad avere forti tensioni ma è un comportamento più tipico del maschio o della femmina? diciamo di tutti e due non c'è una categoria più perché insomma diciamo che prima si riusciva in qualche modo a parcamenarsi o si andava in palestra c'era la serata con gli amici si andava a giocare a calcetto insomma bene o male la scappatoia si trovava la sera vabbè ristanco davi a letto e arrivederci adesso capite voi che è molto più difficile perché sei sempre lì non ti hanno chiuso come è successo a marzo aprile adesso si può uscire ed ecco che questi pur di trovare un po' di respiro escono e fanno a volte delle pazzie se pensate a quello che è successo qualche domenica fa anche ad Asiago con queste code interminabili vuol dire che questi non ce la facevano più gente in fuga dalla routine senti c'è un altro aspetto che mi solletica molto la curiosità legato a questa situazione ed è quello degli amori io li chiamo telematici quelli che si conoscono sui social tutto una fiorire di applicazioni per incontri che non si possono più fare però insomma il tempo per chattare con Francesca 50 piuttosto che con Primulina di Campo ce l'hanno tutti quello sta andando alla grande quello va nella nostra nuova formula d'amore si si anche perché i rischi quali sono beh pensiamo intanto a una persona single che non ha un partner e che magari ha anche un po' di timore ad uscire a frequentare qualcuno che non conosce si sente più sicura parlando e il rischio è che che ne sai tu com'è realmente l'altra persona che conosci solo virtualmente quindi diciamo che il lato positivo è che queste persone singole hanno una valvola di sfogo attraverso queste chat il rischio è che ma lo conosci poi la conosci veramente questa persona quindi bisogna stare molto attenti se come valvola di sfogo l'importante è non raccontare troppo infatti c'è un'associazione che se non sbaglio dovrebbe essere a schio di donne siamo in provincia di Vicenza in provincia di Vicenza di donne che si sono fatte accalappiare da questi uomini che prima si sono presentati meravigliosamente come principi azzurri e che poi hanno creato una dipendenza affettiva e hanno iniziato a chiedere soldi e so che è stata creata un'associazione la cui presidente è una di queste vittime che aiuta che aiuta a coloro che cadono nel trappolone come si possono riconoscere queste persone da cosa si capisce troppi complimenti troppo quale può essere il campanello d'allarme quando una persona si presenta troppo bene quando una persona è troppo gentile è troppo perfetta e fatalità capisce i tuoi bisogni senza che tu gli esprimi gli dovrebbe scattare un campanello d'allarme perché questi personaggi senza scrupoli hanno un'abilità nel leggere il non verbale o nel capire le difficoltà che riescono ad entrare soprattutto in momenti di crisi come può essere questo momenti di solitudine perché pensate a chi non ha un partner pensate alle festività di quelli che sono soli quindi la solitudine crea una debolezza e questi si possono insinuare quindi quelli che si presentano troppo bene e che vi capiscono così tanto fate scattare un campanello sulle antenne come si dice sulle antenne e poi il passaggio successivo Cristina corregimi se sbaglio è sempre quello che questi affascinanti valentini da strapazzo arrivano a chiedere soldi eh sì iniziano a chiedere soldi o comunque iniziano ecco noi dobbiamo diffidare dalle persone non solo che si presentano troppo bene ma che anche fanno le vittime che a un certo punto dopo che hanno creato cominciano a fare vittime che non hanno lavoro che hanno perso i soldi che capite la vittima attenzione è un'altra persona pericolosa adesso a me viene in mente un personaggio che sta a cuore a tante persone che Paolo Rossi Paolo Rossi aveva una malattia ma lui non ha mai fatto la vittima ha saputo agire con discrezione lo sapevano solo i suoi familiari avrebbe potuto anche lui fare la vittima non l'ha fatto quindi attenzione alle vittime le vittime a volte sono degli aggressori pericolosissimi ho citato Paolo Rossi un gentiluomo come non non ce ne sono più e questo è sicuramente un dato di fatto senti torniamo a parlare di amori a distanza perché anche quelli stanno passando un momento molto difficile perché se è vero che le relazioni stabili quelle regolari marito e moglie e compagni che vivono sotto lo stesso tetto possono avere probabilmente l'aspetto della convivenza forzata che dicevamo anche prima può portare a qualche situazione particolarmente difficile e allora ecco che si cercano come raccontavi tu delle scappatoie delle vie di fuga anche proprio fisicamente per cercare di resistere a quella convivenza c'è chi invece vive il problema opposto e cioè gli amori a distanza quelli che per vari motivi sono in una città diversa in una regione diversa in una provincia diversa e anche in uno stato diverso in uno stato diverso quanto può durare un amore a forza di videochiamate perché effettivamente anche quella è una difficoltà no? dipende da quanto grande è l'amore il famoso detto che il vento spegne la lontananza scusate il vento non c'è spegne i fuochi piccoli e accende quelli grandi dipende da che rapporto avevano perché se il rapporto d'amore è un rapporto molto solido sempre che a un certo punto ci si possa vedere si arriva a mantenerlo se invece è un rapporto già logorato dal tempo purtroppo uno cerca qualcuno vicino anche perché se ha bisogno se sta male ha bisogno di avere qualcuno soprattutto in questi periodi pensate a uno da solo che vive che ne so in Cina e la moglie abita qui cioè se sta male cosa fa certo capite magari quello che vive qui ha delle parenti quello che vive là diventa un diventa un grosso problema difficile da da gestire certo possiamo dire allora che il covid probabilmente tra le sue conseguenze ha anche quello di una solitudine che diventa ancora più grave rispetto alla prima perché che la solitudine sia un problema di questi tempi in cui abbiamo tutti quanti centinaia di amici sui social e zero amici fuori dalla porta è un dato di fatto questa situazione ha cresciuto ulteriormente quel problema certamente infatti io dico a tutti consiglio a tutti se hanno degli amici che sanno che sono soli degli anziani che sono soli fate un colpo di telefono magari basta anche una volta alla settimana due volte alla settimana fate sentire a queste persone che voi le pensate io qualche volta chiamo delle persone anziane qualche volta un paio di volte alla settimana beh loro veramente si sentono felici alla fine non costa niente sono due minuti di vita vera due minuti di vita che regali a queste persone e dopo a proposito di quelli che se ne vanno fuori perché non sopportano più in fuga in fuga pensate che alla fine piuttosto affrontano il virus si infatti è la quella che rimane questo è il famoso detto del piove sul bagnatolo magari chi vorrebbe avere il proprio compagno o la propria compagna vicina non ci riesce perché appunto ci sono le difficoltà di cui parlavamo prima e chi invece ha il privilegio di condividere una relazione stabile si trova alla necessità di dover fuggire vogliamo provare a dare Cristina qualche suggerimento e di convivenza forzata e di come superare questo momento difficile per chi deve restare cosa può fare una coppia per riaccendere un po' la passione tieni conto che siamo in fascia iper protetta quindi mi raccomando allora quando una coppia è già in crisi ed è in convivenza forzata vede solo i difetti di quello che ha a fianco un primo esercizio sarebbe quello di pensare a che pregi ha perché tutti hanno dei pregi insomma sembra si è innamorato di quella persona un minimo di pregi avrà avuto quindi cominciare a concentrarsi e a gratificare magari facendo anche delle cose insieme tipo proviamo a cucinare insieme piuttosto che mettiamo a posto la casa cioè creare un qualcosa ma soprattutto la gratificazione perché più uno è in crisi e più uno è costretto più vede il negativo invece cominciare a vedere il positivo poi bene o male lo puoi abbracciare e quindi abbraccialo la fisicità la fisicità è importante magari guardare un film insieme magari insomma cercare di vedere il lato positivo non fa mai male ritrovare quella intimità che c'era magari una volta che poi col tempo perché insomma è abbastanza inevitabile anche noi magari si è un po' persa chi invece è lontano forzatamente quale suggerimento potresti dare per tenere vivo il sentimento diciamo così diciamo adesso siamo in fascia protetta quindi non dico niente però anche lì dimostrare l'affetto la gratificazione ricordare i momenti belli passati insieme progettare un futuro guarda poi quando ci rivediamo ti ricordi che non avevamo fatto questa cosa e potremmo farla insieme quindi anche fare progetti per il futuro aiuta perché se uno comincia a dire oddio sono chiuso il caso oddio chissà quando potrò rivederti inizia a avere una cappa di ansia e non va da nessuna parte il progetto la speranza la fantasia fa sì che si sopporti meglio quindi pensare che comunque alla fine della fiera tutta questa situazione lo dicevamo anche prima è destinata a finire perché presto o tardi finirà questo disastro inenarrabile che stiamo vivendo da quasi un anno e insomma dopo si torna a vivere che non sarà più come dicevamo anche prima la vita di prima ma insomma dipende anche da noi cercare di rendercela il più il più leggera possibile una risata ogni tanto fa sempre bene una risata fa sempre bene anche a distanza usare un po' l'umorismo cercare di non appesantire perché ce n'è già abbastanza di pesantezza e poi anche un consiglio questa forzatura questo stato di prigionia crea irritabilità per cui io do il consiglio di cantare anche per noi sonati sì ballare per esempio in macchina cantate non avete la mascherina invece che arrabbiarvi con quello che non parte che è passato prima di voi cantate canta che ti passa il vecchio proverbio che torna d'attualità e ballare mettere un po' di musica ballare cioè non occorre essere in discoteca anche da soli si può ballare si possono fare i lavori ascoltando musica cantando il canto aiuta a scaricare lo stress e la rabbia e voglio raccontarvi un aneddoto allora questo mio paziente è pressato preoccupazioni al lavoro la moglie che non la sopporta più gli ho detto senti è inutile che ti arrabbi col mondo intero prendi vai in un campo e mettiti a urlare almeno ti sfoghi da solo ti scarichi bene questo prende va in questo campo però c'era un cespuglio e lui non aveva visto che dietro al cespuglio c'era una coppietta e lui si è messo a urlare ci stavano sfogando anche loro si in un altro modo e insomma questo si mette a urlare guardate è stata la psicologa che me l'ha detto è uno sfogo troppo bello si è salvato ha dato la colpa a te praticamente si è salvato allora come sempre a casa è vero i psicologi a quello servono per poter dare la colpa a cosa servono allora Cristina in conclusione riassumendo cercate di fare progetti di fare cose nuove di condividere momenti piacevoli cantate ballate fatevi 4 urla ultima cosa volevo chiederti che ho letto da qualche parte e volevo visto che ho la fortuna di averti qui avere la tua conferma un animale può aiutare in questo momento tantissimo e soprattutto lasciate perdere le fandonie che dicono che porta malattie il cane il gatto un animale non porta nessuna malattia prendetelo coccolatelo vi dà un affetto incondizionato io ne ho 2 sto pensando di prendere il terzo quelli sono davvero un aiuto un aiuto vero ringrazio Maria Cristina Strocchi che è stata qui con noi oggi come sempre con mio grande piacere e so anche con grande piacere del nostro pubblico io vi ricordo che il vietato tacere tornerà nella sua formula che conoscete bene con le vostre telefonate con i vostri messaggi con i nostri ospiti dal 7 gennaio intanto in questi giorni di festa continueremo a incontrare amici speciali mi avremo altri anche domani quindi l'appuntamento si rinnova alla stessa ora grazie a voi che ci avete seguito e buona giornata grazie grazie a tutti